poi pensate che sia incazzato neanche un poco avevo già detto che questa partita a me interessa mercoledì comunque allegri come dare torto a quelli che ti sfanculano cosa cosa vuoi cosa vuoi che ti dica di questa partita allegri solita merda solita merda 70 per cento possesso palla loro 30 per cento noi 600 passaggi loro 200 passaggino e siamo sempre la sempre sempre difesa sempre solita menata guardate spero veramente che questo allenatore vada fuori dal cazzo perché dopo non puoi avere sempre culo sempre culo non hai il più la bbc non li hai più quei giocatori la lo vuoi capire o no testone di cazzo di allegri non vuoi capire non hai più quei giocatori lì e continui ancora spiazze comunque spiazze perché eravamo andati in vantaggio torca puttana del solito culo di allegri e invece dopo lo prendi nel culo non puoi sempre avere culo allegri non puoi avere sempre culo grande testone di cazzo che dopo la fine le squadre come napoli te lo ficano te lo ficano e questa qui è la fotocopia della partita vi ricordi vi ricordate ancora quella che per un pelo per la perdevamo lo scudetto quella lì che hanno perso lo scudetto in albergo con gli altri stessa fotocopia siamo lì passano gli anni e tu giochi sempre uguale perché sei un coglione io spero che veramente tu vada il psg io non lo so lì quanto durerai questo è quello che dicono che il psg sei già al psg a me mi viene da ridere però lì al psg combate lì che duri una partita e mezza una partita la seconda nell'intervallo ti mandano fare in culo il psg secco per venezia e sono i video sai copia incolla copia incolla copia incolla sempre quello devi dire che che cazzo vuoi dire di allegri sempre queste partite qua sono sempre queste partite qua guardate veramente sono 6 7 anni che andiamo avanti così con sta storia sempre sto gioco sto gioco di merda cambiano gli allenatori sempre peggio sempre qui bisogna cambiare come dico di video precedenti bisogna cambiare il registro bisogna cambiare qua se no non vai più avanti non sono più quei tempi la non sono più quei tempi la i tempi si evolvono e noi siamo sempre fermi al palo lo volete capire o no grande testa di cazzo di allegri comunque giocami così anche mercoledì guarda che mercoledì sono cazzi è ora che mercoledì se mi fai una figura di merda come stasera allegri vengo io a prenderti la contenassa o a livorno dove cazzo sei ok ragazzi buonanotte a tutti da michelone neanche tanto incazzato sono anche stufa cosa volte che mi incazzo cazzo le 11 di sera dopo aver visto sta merda qua torno da lavoro vedo sto schifo con sto mal di schiena di merda ragazzi buonanotte a tutti iscrivetevi al canale fate contento michelone che piene mal di schiena è tutto distrutto iscrivetevi al canale un bacione a tutti bagli e brutti ricordatevi che un iscritto al giorno toglie il medico di torno allegri vai a fare in culo